Ed eccoci con voi, allora saluto subito Enzo Ulliana che è presidente dell'Oasi Quadris di Fagagna, un posto veramente magico. Allora intanto dobbiamo dire avete festeggiato da poco un... Buongiorno, buongiorno intanto. Avete festeggiato un anniversario importante, c'è 30 anni di vita. Sì, 30 anni di vita dell'Oasi, è nata nell'89, ha avuto insomma anche lei i suoi momenti di alti e bassi, adesso diciamo che dal 2013 a oggi insomma stiamo vivendo un buon periodo. I visitatori aumentano ogni anno, per noi insomma una grossa soddisfazione. Ecco Presidente, dobbiamo dire che di fatto questa è una struttura che è gestita da volontari? Sì, da un gruppo di volontari, ribadisco sempre, cerchiamo volontari perché siamo veramente in pochi. È un'associazione, un ex onlus, ora ODV, gestita diciamo da circa una decina di persone. L'area è comunale naturalmente, noi insomma assistiamo, accudiamo gli animali che ci abitano. Senta, in questi 30 anni, lei diceva alti e bassi, adesso la situazione probabilmente si è stabilizzata. Sì, sì, il tutto è nato nell'89 come dicevo, grazie all'amministrazione di allora, anche se sempre stanno ai cacciatori della riserva di caccia di allora di Faganie. Poi insomma con tutte le cose, all'inizio l'entusiasmo e l'interesse che poi negli anni è un po' andato a svanire. Ripeto, nel 2013 ci siamo entrate 3-4 persone nuove, così richiamate dai pochi volontari di allora che ormai erano ridotti a 3-4 persone e abbiamo ripreso la situazione in mano. Ecco, torniamo dietro ai 30 anni, spieghi bene, quindi come mai nasce questa struttura? Grazie all'altro dei cacciatori addirittura. Anche, anche all'aggiunta d'allora soprattutto e ai cacciatori della riserva di allora che hanno contribuito nella realizzazione, insomma nell'ottimizzazione dell'area. Niente, l'area è stata acquisita, questi sono circa 7 ettari, tra verde e acqua, insomma, è stata acquisita dal comune perché negli anni era un po' finita in degrado, era addirittura diventata una discarica negli anni 70. Il comune l'ha acquisita, ha bonificato tutto quanto e niente, è nata l'idea così di creare il secondo centro per la rintroduzione della cicogna bianca. Il primo era stato creato un paio di anni prima a Racconigi, in provincia di Cuneo. Tutto questo anche grazie all'arrivo di un paio di cicogna nel comune di Nignano, sul cammino di una filanda che è praticamente all'inizio del ponte. Lì erano stati recuperati due pulli perché uno dei genitori era sparito e diciamo questo ha spinto un po' il comune e l'aggiunta di allora ad iniziare a dare vita a questo nuovo centro. Senta, il fatto che questi animali meravigliosi abbiano deciso di approdare da quelle parti, ma cosa avete? Un clima particolare? Ma no, diciamo la verità, diciamo, si dice che nel Medioevo fossero stanziali anche migranti, poi erano spariti. C'è stato qualche avvistamento negli anni Sessanta, poi questa nidificazione veramente rara a Dignano, no, niente, sono stati introdotti. Comunque sono... Ecco, in questo momento quante cicogne insistono su quell'area? Diciamo che adesso libere e stanziali da noi ce ne erano tantina anche più, perché per esempio che quest'anno qualche pullo, cioè i nuovi nati, invece di migrare si è fermato e si è giunto al gruppo. Ecco, mi può dire, me l'abbiamo già spiegato nel nostro telegiornale, il ticchettio che si udiva qualche tempo fa? Diciamo, è il loro modo di comunicare, corteggiare, litigare e quant'altro, diciamo, perché i piccoli cicogne fino a qualche mese dalla nascita riescono a immettono dei suoni, poi gli si atrofizza la laringe e questo è il loro modo di... Ecco, lei parlava di volontari, questa è una bella immagine fatta con il drone, proprio sull'oasi Quadris di Fagagna. Intanto la manutenzione, diceva, 7 ettari, è tutto a carico vostro? Sì, diciamo, in questi 7 ettari ci sono i vari stagni, che insomma non è il verde, sì sì, è tutto a carico nostro, ci sono un paio di persone che addirittura si dedicano quotidianamente alla cosa. Poi naturalmente l'estate c'è più lavoro, l'inverno cala. I visitatori? Ma i visitatori... quest'anno abbiamo quasi raggiunto le 18.000 presenze ed è veramente un bel risultato, l'anno scorso eravamo arrivati a 16.200 persone ed era già un buon risultato. Quest'anno però veramente è un bel traguardo perché diciamo che il mese di maggio, che come sapete è stato un mese veramente disastroso, ha piovuto tutto il mese, non abbiamo aperto praticamente, noi apriamo nel fine settimana per 5 domeniche e maggio tra l'altro è un mese dove la gente insomma gira, si muove, si muove molto. Ecco, nonostante questo mese di maggio che diciamo è andato a vuoto, 18.000, quasi 18.000 persone, e secondo me le supereremo perché adesso rimarremo aperti fino alla fine di ottobre, poi primi di novembre vediamo, a seconda delle condizioni del tempo, può essere che prolunghiamo ancora l'apertura. Senta, quanto sono delicati questi animali? Beh, insomma, innanzitutto la ciconia, molti non lo sanno, è un animale carnivoro, noi le ciconi insieme all'ibiseremita, che poi si vedono spesso nel filmato, li foraggiamo ogni giorno, se hanno cibo e tranquillità non hanno grossi problemi. Gli unici problemi che hanno questi animali sono, ogni tanto vengono investiti, soprattutto nel periodo degli amori, abbiamo notato, si viene un po' così. Sono un po' distratti. Un po' distratti, oppure folgorati in qualche caso, se no non ci sono altri problemi. Abbiamo delle cicogne all'osi che ormai hanno circa una ventina d'anni. Sono ormai, da lì non si spostano. Sì, 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 ormai non si spostano, sono abbastanza longeve. Senta, una cosa che mi ha colpito è che c'era la signora I, quella che ho conosciuto. Dima, Dima. Ma le chiama per nome? Sì, sì, beh sì, lei tra l'altro è una nostra, lei fa, segue i censimenti, lei è quella che le conosce più degli altri, insomma. È lì ogni giorno tra l'altro Dima. Sì, proprio le chiama per nome? Sì, 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 tra l'altro I, B, Cicconia, sì, sì. Ho capito. Senta, la riproduzione? Niente, quest'anno purtroppo il mese di maggio, che era il mese clou, dove c'erano ormai i pulligianati, eccetera, e pioggia e freddo ha fatto veramente, ha fatto veramente una strage. Quest'anno ci sono stati una ventina di superstiti, considerando che per esempio lo scorso anno ce n'erano una cinquantina di nati. Il clima è fondamentale. È il clima fondamentale, sì, soprattutto la pioggia abbinata al freddo è micideale per questi animali, perché poi ha raggiunto una certa stazza, diciamo, difficilmente la madre riesce a riscaldarli e a proteggerli. Perciò se c'è solo freddo non ci sono problemi, ma se c'è l'acqua, l'animale è bagnato e poi col freddo finisce per andare in ipotermia e muore. Senta, i visitatori più curiosi immagino siano loro, i più piccoli. Sì, abbiamo un sacco di scuole che vengono tutto l'anno, i più piccoli, ma anche le famiglie, ci sono anche adulti molto interessati. Abbiamo una buona parte anche di fotografi, di veri appassionati che vengono lì e si appostano e passano la giornata. Senta, scambi con altre realtà simili? Diciamo collaborazioni, insomma, collaborazioni per esempio con Bordano, abbiamo il biglietto d'entrata insieme, cioè chi viene da noi con il loro biglietto ha lo scontro di un euro, chi va da noi, chi va da loro con il nostro biglietto ha lo scontro di un euro. Poi abbiamo collaborazione con due parchi anche in Veneto, a Cervara, che è sempre un'oasi dove anche là ci sono cicconi, eccetera. È un altro parco, praticamente un'area archeologica che è sempre là in Veneto. Ecco, senta, se c'è qualche benefattore che ci ascolta, di che cosa avete bisogno? Beh, niente, insomma... Anche perché gestire l'area costa 50 mila euro l'anno? Sì, diciamo, tra entrate e uscite ormai il giro sui 50 mila euro l'anno. Diciamo, il nostro desiderio ora sarebbe che, diciamo, l'aggiunta adesso sta venendo, vorremmo realizzare un pozzo perché le stagioni ormai, come vedete, le stati sono sempre più siccitose, l'acqua è di fondamentale da noi all'oasi, no? Se non piove per molto tempo, gli stagni evaporano, l'acqua carà anche di un metro e mezzo, si formano delle alghe che poi danno fastidio agli animali, eccetera. Insomma, vorremmo realizzare questo pozzo. Adesso, in collaborazione con l'aggiunta, spero che la cosa avvenga, insomma, si realizzi. Ecco, avete un obiettivo? Beh sì, questo è il nostro obiettivo, abbiamo chi vuole... Quanto serve? Il pozzo, diciamo, fatto finito, chiave in mano, costa 100 mila euro. Ho capito. Perciò abbiamo... c'è chi ci ha già donato, gli stessi visitatori ci stanno aiutando nell'accumulare i soldi che ci servono per questa realizzazione, naturalmente anche il comune farà la sua parte. Perfetto, quindi c'è un sito? Sì, sì, c'è un sito info chiocciolosi.quadris.it oppure www.quadris.it Questa è la mail? Sì. Quindi se volete fare un regalo anticipato di Natale all'Oasi, no? Quadris di Fagagna. Sì, eccetera. Beh sì, ci mettono in contatto con noi come hanno fatto altri. C'è questo pozzo, se vi fa piacere, a concorrere appunto con... Ci aiutate a realizzarlo, insomma. Perfetto. Vogliamo ricordare, prima di salutarci, se questo fine settimana qualcuno vuole venire a visitare l'Oasi? Certo, anche questa settimana siamo aperti, domenica, la domenica mattina dalle 10 alle 7 di sera, insomma, al tramonto, non cacciamo mai nessuno. Niente, vi aspettiamo, insomma. Allora, io ringrazio Enzo Uliana, presidente dell'Oasi Quadris di Fagagna, quindi andate a visitarla e se vi fa piacere, visto che sono volontari, va visitato perché è un'area che è splendida, è molto ben tenuta, quindi andate, fate una donazione, non farete niente. E chi voglia fare il volontario è benvenuto. Bene, grazie presidente, noi adesso ci salutiamo solo per ora, poi ancora un po' di rassegna stampa, tra poco.